Prosegue la crescita di IVV, azienda energetica di Valtellina e Valchiavenna. Positivi dati approvati dall'Assemblea dei Soci svoltasi nella sede sondriesi di Confindustria d'Ecco e Sondrio. L'utile netto consolidato si è testato a 2.640.000 euro, con un incremento del 19% rispetto al 2015. Confermato il trend in crescita, come hanno spiegato il Presidente Nicola Giugni e il Direttore Generale Francesco Conforti. L'Assemblea si è appena conclusa, partiamo dai dati di questo esercizio. Riscontriamo che per il quinto anno consecutivo dalla costituzione dell'azienda energetica Valtellina e Valchiavenna, nata dalla fusione di società già esistenti sul territorio, il bilancio annuale presenta un utile. Rispetto al bilancio presentato lo scorso anno registriamo un più 19%. Il dato concreto è di 2.640.000 euro di utile netto. Mi piace precisare che rispetto al 2012, che è stato il primo bilancio dopo la fusione, dove si era registrato un utile netto di 1.384.000 euro, il dato attuale fa sì che si possa dire che in 5 anni abbiamo raddoppiato gli utili, quindi abbiamo un incremento del 100% dell'utile netto aziendale consolidato. In crescita il dividendo riservato ai soci, sia pubblici, quindi comuni di Sondrio, Tirano e Val di Sotto, sia privati. E in agenda ci sono nuove alleanze. Dopo quella siglata con la lecchese, l'Arioretti Holding per il settore gas, è stato avviato un confronto con le multi utilities attive nelle province del nord della Lombardia e con il colosso A2A, già socio di IVV. Sul fronte gas è in essere l'alleanza con l'Eco. Noi abbiamo intrapreso un percorso che, nonostante la fusione delle società del territorio in IVV, ci aveva fatto ritenere nel 2012 che la dimensione aziendale raggiunta, per quanto maggiore rispetto al passato, non fosse ancora ideale e sufficiente per quello che riguarda la competizione che il mercato dell'energia presenta e presenterà sempre di più nei prossimi anni. Quindi già nel 2012 avevamo stretto un'alleanza con l'Eco. Oggi questa alleanza prevede degli ulteriori passaggi piuttosto importanti. Ecco perché c'è una prospettiva. L'idea di fondo è che si vorrebbe estendere al nord della Lombardia un ragionamento che comprenderebbe se le condizioni si avverassero e ci stiamo lavorando anche attraverso attività di consulenza importanti con i consulenti di una certa rilevanza, comprenderebbe i territori di Sondrio, di Lecco, di Como, Monza e di Ivarese. In questo senso si potrebbe prefigurare la costituzione di una multiutility del nord della Lombardia. Queste società prevedono già parzialmente la partecipazione di A2A nella loro compagine societaria, come avviene ad esempio per l'azienda energetica Valtellina Valchiavenna, dove A2A ha il 10%. Ma non è soltanto la presenza all'interno della compagine societaria che fa di A2A uno dei soggetti e forse il soggetto principale al quale rivolgersi intorno a un tavolo di discussione per questo progetto. A2A è anche un partner industriale forte che in Lombardia ha una posizione baricentrica indiscussa. È in atto diciamo uno studio, una discussione. Le scelte importanti relative al futuro a mio giudizio vanno compiute quando si sta vivendo una situazione di serenità, come è quella attuale, non quando si è in pericolo. Un'ipotesi di alleanza che lei spiegava comunque dovrà rispettare alcuni parametri. Sì, noi ci sediamo a questo tavolo dopo aver sottoscritto una lettera di intenti con Lecco, Como, Monza, Varese e con A2A ponendo delle condizioni senza le quali il progetto non potrà essere realizzato. La prima è che vengano mantenuti esattamente i posti di lavoro e anzi che il senso del progetto di aggregazione societaria industriale è tanto più vero quanto più le prospettive di incremento di questi posti di lavoro possano essere realistiche. La seconda condizione che è collegata comunque a quella che ho indicato come primaria è che vengano mantenuti sul territorio i presidi già esistenti, cioè le aziende, i luoghi in cui i lavoratori esercitano le loro attività, gli uffici di relazione con il pubblico, gli uffici che sono presenti sul territorio a Sondrio, a Tirano e a Val di Sotto dove l'utente può, a differenza di quello che avviene con i call center, andare e rivolgere direttamente le proprie istanze a persone fisiche che immediatamente gli diano risposte concrete. Il progetto di sviluppo della Multi Utility per il Nord della Lombardia si pone dunque l'obiettivo di creare una società multiservizi di riferimento nelle province di Sondrio, Lecco, Como, Monza e Varese. L'orizzonte si amplia senza perdere di vista il radicamento con il territorio. Direttore Conforti, vogliamo ricordare che IVV è un gruppo composito che spazia su più settori. Esattamente, il gruppo IVV che si occupa di vari settori, principalmente della distribuzione energia elettrica e gas ma anche della vendita dell'energia elettrica e del gas con la nostra società IVV Energie che ha tre sportelli sul territorio perché per il nostro caso è molto importante avere degli sportelli localizzati sul territorio per avere una vicinanza con i nostri clienti. Poi abbiamo anche le farmacie, le farmacie sono nel comune di Sondrio, sono tre farmacie comunali nelle quali noi vogliamo puntare molto sui servizi, i servizi alla clientela e il fatto di essere anche in questo caso vicini al territorio. Poi abbiamo le IVV Impianti che si occupa di efficientamento energetico, LED, gestione calore. Ormai è molto importante che oltre a vendere energia offriamo un servizio ai clienti in questo ambito per ridurre il consumo di energia elettrica e gas. Quindi un'impresa che non è solo un lontano col centro, anzi? No, vogliamo essere radicati e vicini al territorio in modo tale che ognuno, ogni cliente possa venire da noi e trovare un confronto e una valutazione delle nostre offerte che non sia una scelta a scatola chiusa. Diciamo anche che è importante la vostra realtà per l'occupazione provinciale. Questo al giorno d'oggi è un aspetto significativo, il gruppo ha circa 70 persone, è stato costituito dalla fusione del 2011 di tre società e in questi anni pur avendo avuto delle persone, dei dipendenti che sono andati in pensione abbiamo assunto nuovi ingegneri, farmacisti, tecnici e amministrativi che hanno consentito comunque di mantenere una stabilità della parte occupazionale.